Non solo sono importanti, ma si possono anche realizzare. E quello che vedete alle mie spalle è il frutto di un segno, di un sogno che si è realizzato, che è stato possibile realizzarlo grazie alla passione e alla dedizione di tutti, soprattutto i musicisti che vedono alle mie spalle, per i quali vi chiedo un grossissimo calcio. A questo punto vorrei chiamare sul palco tutti gli attori, diciamo il senso lato di questo spettacolo, anzitutto i ragazzi della scuola Borgantico, i grandi e i piccolini. L'invito sul palco, bravi ragazzi, con la loro maestra Enza Chiappalone, della scuola di danza Borgantico. E approfittando del fatto che è l'ultimo concerto che facciamo per quest'estate qua ai Giardini a Bordichia, vorrei chiamare anche i miei ragazzi con i loro strumenti. Non danzano, ma sono bravi a suonare. Su ragazzi! Un grossissimo applauso al Deus Ex Machina di tutto questo, il dottor Luca Moreno. Grazie Luca. Per cui a questo punto non ci resta altro che ringraziarvi ancora una volta, darvi appuntamento il 19 di agosto se lo vorrete ad Ospedaletti. Alla sera l'auditorium comunale e se no aspettate per i prossimi programmi invernali che stanno già bollendo in pentola, le stiamo cucinando per voi. Grazie a dottor Luca Moreno, infaticabile. Chiaramente stavo dimenticando perché che cosa mi scordo sempre, Cristina De Pascale, nostro soprano. E quindi se vi è piaciuto seguiteci sempre numerosi. Noi saremo qua per voi ogni stagione. Grazie ancora a tutti e buonanotte.